Ha senso continuare a farsi PC su PC se tanto esiste lo streaming? Quando usciranno i 9000X3D e con 800€ un PC lo faccio? Cifra assolutamente non precisamente vicina a qualcosa di noto, giuro. Queste e altre domande nel Q&A di settembre. Come al solito vi invito a lasciare un like e iscrivervi, ma soprattutto a lasciare un commento con altre domande a cui risponderò nei prossimi Q&A. Potete lasciarle direttamente sotto a questo video e andrò a visionare e rispondere alle migliori. Partiamo con un po' di rapide. Di dove sei? No, dove sei? Dietro di te. No, di dove sei? Ok, so leggere un po' bene oggi. Sono sardo, però abito a Milano come tipo l'80% dei content creator. Secondo te caleranno di prezzo le GPU attuali con l'uscita delle 5000? Dipende, perché c'è da dire che molto spesso se la generazione che esce è deludente aumenta la domanda per la generazione precedente. E in termini di protezione sappiamo che le aziende tendono a far salire i prezzi delle componenti antecedenti appositamente per evitare di danneggiare quelle odierne. Ed effettivamente questo è appena successo con i Ryzen 9000, dove il 7800X3D ha visto un incremento di prezzo proprio dopo l'uscita di queste ultime componenti. Quindi coincidenze? Non lo sappiamo. Ad ogni modo le 5000 in generale potrebbero avere un impatto positivo, ma siccome secondo me non avranno lo stesso salto prestazionale, almeno per le top di gamma che c'è stato tra 3000 e 4000, potrebbe essere che magari la 5090 sia interessante, in assoluto sì, sia la scheda video più performante del mercato, assolutamente sì, però effettivamente magari la 4090 rimarrà una scheda interessante e quindi ci sarà un grado di protezione nei suoi confronti, soprattutto ovviamente per l'ambito dell'intelligenza artificiale e per motivi di margini probabilmente Nvidia finirà a farne protezionismo e quindi probabilmente se volete una 4090 non lasciate passare troppo tempo dopo che esce la 5090 o se volete un'altra top di gamma qualsiasi. Ovviamente questo vale per Nvidia, non per AMD, ma a parte inverse vale lo stesso, come abbiamo appena detto. Aspetto la prossima generazione di processori o quelli attuali sono molto competitivi? Allora, diciamoci le cose chiaramente. Le attuali generazioni di processori sono assolutamente valide in termini prestazionali, tuttavia metto le mani avanti. Dal lato di Intel ci sono tutti i problemi noti di cui abbiamo discusso ampiamente in svariati video. E questo ovviamente porta a posizionare la generazione di processori Intel come meno interessanti per il grande pubblico o almeno per le persone più coscienziose. Continuano a scrivermi persone che hanno avuto problemi di crash con appunto Intel e che hanno chiesto la sostituzione del proprio prodotto. Ad ogni modo, siccome non manca tanto dagli ultimi leak sembrerebbe che Arrow Lake arriverà intorno al 24 di ottobre come data di rilascio, di per sé potete aspettare questo mesetto abbondante e vedere un pochettino di che pasta siano fatti questi nuovi processori di Intel, se l'assenza del simultaneous multitrading in qualche modo influenzi positivamente o negativamente le prestazioni. Insomma, un insieme di cose che mi fanno dire che le generazioni attuali sono assolutamente valide, però di per sé non manca troppo alle prossime, quindi diamogli un'occhiata poi decidiamo. Sicuramente i 9000 sono i meno interessanti, quelli di AMD. Ha senso leggere il libretto di istruzioni della scheda madre? Leggilo. È molto importante, fa bene, è pieno di informazioni utili. Leggilo. È il momento giusto per investire su un monitor 4K o meglio restare sul 1440p per il gaming? E allora, secondo me il 4K in questo momento è una risoluzione veramente ambiziosa, nel senso che in termini di resa è veramente incredibile, però al tempo stesso mi trovo a dire che, a meno che non si accetti, diciamo, di comprare dei monitor un pochettino più contenuti in termini di caratteristiche, come per esempio degli IPS 144Hz, la spesa diventerà ingente, quando già effettivamente con questo primo modello che ho citato potrebbe esserlo, potrebbe superare tranquillamente i 400-500€ se non mi ricordo male in questo momento. Salendo troviamo degli ostacoli, insomma, che incrementano ulteriormente il, appunto, costo di questi monitor, come per esempio i MiniLED oppure, dall'altra parte, i QD OLED, che ovviamente in questo momento costano veramente un occhio della testa. Siamo sopra i 1000-1200€ per quanto riguarda i 4K a 240Hz con QD OLED di terza generazione, quindi quelli, per esempio, di MSI, di ASUS, di Alienware e simili. 1000 circa, invece, se parliamo appunto di Alienware e Dell, però effettivamente sono un po' meno reperibili, ma ci sono. Secondo me, al momento attuale, più che altro il grande problema del 4K è che grazie al DLSS abbiamo iniziato a supportare questa risoluzione con schede video che prima magari non potevano accederci se non con dei sacrifici consistenti. Al tempo stesso è una risoluzione che secondo me richiede delle schede che se venissero adoperate con gli stessi sacrifici, o comunque anche qualcosina di meno magari in termini più che altro di impostazione grafica, ma con appunto il supporto del DLSS in 1440p, farebbero faville e vi permetterebbero di accedere a un roster di monitor più economico, ma con delle caratteristiche migliori, alla fine rinunciando soltanto a un pochettino di chiarezza d'immagine, di definizione e cose così. Io personalmente apprezzo tanto il 4K, però se devo consigliare al grande pubblico qualcosa, secondo me 1440p, 240Hz se proprio volete esagerare, ma secondo me è già 144, va benissimo, vi portate via un monitor con 200-300€ e avete veramente un'ottima qualità. Se volete esagerare ci sono ovviamente i Q di OLED, quelli si aggirano intorno agli 850, però è una risoluzione a mio dire perfetta, è accessibile con tantissime schede video, ancora di più da quando abbiamo FSR, XS e appunto DLSS di Nvidia, quindi valutate voi, ma per me è molto interessante. Cambia il Q&A ma non cambia la domanda, farai mai un giveaway di PC? Ragazzi, la mia risposta è sempre la solita, fare un giveaway di qualcosa, di qualsiasi cosa in Italia è una grandissima, grandissima impresa, per non dirla in termini brutti. Bisogna registrare il regolamento, serve un avvocato, serve un notaglio, serve di versare valore corrispettivo degli oggetti immessi all'interno del concorso, serve di fare un'estrazione in camera di commercio, ci sono dei costi per la persona che organizzi il giveaway veramente enormi anche in termini solo di tempo, è un casino, io invidio tantissimo i creator americani che si possono svegliare, MSI, ASUS, Gigabyte, Intel, Nvidia, gli scrivono, gli dicono, oh voglio dare via 64.090? Mi fai da promoter? Sì, io ti do dei soldi e i tuoi follower prendono delle schede video? Fantastico, facciamolo, e magicamente tutto quello che devono scrivere è un piccolo regolamento con i loro avvocati interni, finita la storia, niente notaglio, niente sforzo del creator, niente ore in camera di commercio, al tribunale, niente. Siamo un paese imperfetto, fai qualcosa oltre a YouTube e amministro l'azienda che rappresenta MordenTech e do colpi al tavolo ripetutamente facendo oscillare le mie piante. A proposito, la nostra ultima giunta si chiama Ivy, è molto bella, ha una pianta che sembra morta ma in realtà è fatta così, è una Harrowhead, è molto felice di conoscervi a quanto pare, sta sorridendo tipo in una maniera più incredibile. Ivy, oltre a YouTube amministro l'azienda che rappresenta YouTube, cioè non YouTube, che rappresenta MordenTech, tutto qua? No, è un lavoro a tempo pieno, mi richiede tipo anche delle volte 12-16 ore in una giornata, oltre ovviamente in cima a quello che faccio di YouTube, no, in aggiunta ovviamente a quello che già faccio su YouTube, per fortuna ho ultimamente acquisito diversi membri del team che mi aiutano tantissimo, quindi di per sé, sono libero di fare cose sempre più creative, ben presto vedrete i frutti di queste cose. Cosa ne pensi della situazione di Intel bisogna comprare? Ragazzi ne abbiamo parlato in decine di video e vi ho anche fatto una premessa all'inizio video, basta, basta chiedermi di Intel, ve ne ho parlato in almeno una decina di video. La mia opinione l'avete, la situazione è grave, lo stanno risolvendo, Arroli che sta arrivando, avete capito. Non è per cattiveria, è solo che se non finisco a fare solo video su questo. Aggiornamenti sullo studio? Eh, ragazzi, io ho il video sullo studio pronto, oltretutto probabilmente noterete che si stanno sempre aggiungendo nel corso dei video elementi, tipo con la luce alle mie spalle, perché io comunque continuo ad andare avanti. Ho consegnato a fine luglio, purtroppo con la pausa estiva ovviamente si è perso un bel po' di tempo, il video allo sponsor che ha deciso appunto di volersi inserire come tratto commerciale nel contenuto dello studio si sono un po' persi. Spero che, insomma, cioè il video me l'hanno accettato, dovrebbe uscire entro la prossima settimana comunque, più o meno quella zona lì, e che volevano farlo in concomitanza con un lancio maggiore, poi vedrete. Ha senso prendere 7800X3D e 4070 Super oggi? Allora, beh sì, è un'ottima combo, sono veramente uno dei migliori processori del mercato, se non il miglior processore del mercato gaming, con un incredibile potenziale, in questo momento costa un po' più di quello che dovrebbe, circa un centinaio di euro di troppo, però di per sé, tolta questa cosa, rimane uno dei migliori processori mai creati, anche a 450 euro in realtà mantiene un value veramente altissimo, cioè il valore effettivo di quel processore è assurdo. Oltre a questo, la 470 Super è in realtà una delle schede video, secondo me, più interessanti del mercato, anche essa ha aumentato, secondo me, un pochettino il prezzo di recente, nel senso che oscilla abbondantemente sopra i 600 in maniera anche un pochettino lesiva, perché un sacco di gente si vorrebbe fare build sui 1500 euro e questa combo non ci rientra, soprattutto con gli ultimi incrementi di prezzo, però ovviamente ci saranno tanti eventi che aiuteranno magari a far ribassare questi costi, o comunque a abbassare il costo delle altre componenti e poterle incastrare in configurazioni con un certo budget. Quindi sì, ha assolutamente senso, vediamo un attimino tra Friday autunnale, Black Friday, Natale, tutte le promo che ci sono ogni anno ormai, se magari non riuscite a recuperarne una ad un prezzo decente. In ogni caso, informiamo sui nostri canali Telegram, di cui trovate il link giù in descrizione, con offerte per veramente qualsiasi categoria di persona. Ha ancora senso farsi un PC se tanto esistono i servizi di streaming? Eh, ottima domanda, ottima domanda. Oltretutto vi sto preparando proprio un contenuto sui servizi di streaming, cioè su GeForce Now, perché effettivamente lo ritengo un servizio che si è maturato tanto. Non so se ve lo ricordate, ma sono stato il primo in Italia a parlare di GeForce Now nel 2018, quando ancora era in beta. Ho ottenuto in maniera loschissima una key, perché al tempo Nvidia ancora non dava materiale in giro. Veramente, io l'ho promosso quando ero a Sassari e avevo una 100 MB, me lo ricordo benissimo. E già secondo me lì il servizio era fatto bene, ma per come è fatto oggi è incredibile. Cioè è assurdo che pagando 10 euro al mese tu abbia 1080p quel servizio di streaming e pagandone 22 tu abbia il 4K di una 4080, di LSS ray tracing, tutte le tecnologie di Nvidia e tutte quelle cose. È veramente pazzesco. Al tempo stesso, ragazzi, poi vedrete il video completo in cui vi spiego un po' di cose, secondo me ci sono delle notevoli limitazioni di cui comunque tenere conto. Non è, diciamo, completamente lesiva la cosa, però poi ve ne parlerò. Ad ogni modo, effettivamente, secondo me, i più che altri servizi di streaming sono molto utili come supporto per chi non si possa effettivamente permettere di spendere magari 1.500 euro tutti in una volta, la rateizzazione non li aiuta o cose del genere. Molto utili per chi vi va in movimento e non si voglia, per esempio, comprare uno di quegli ingombrantissimi portati da gaming, farsi uniti X e mettersi nello zaino e cose così. Sì, è molto più facile trasportarsi un iPad o un normale PC o magari semplicemente utilizzarlo con un Chromecast o un Fire sulla TV con GeForce Now che effettivamente comprare un dispositivo da gaming completo se vivete costantemente in movimento. Oppure, semplicemente, magari il vostro PC un pochettino non ce la fa più, come vi dire ho anche nel video, volete dargli un po' di supporto, però magari non è il momento adeguato per fare un aggiornamento, beh, allora lì subentrano in maniera egregia GeForce Now, cioè vi fate 6 mesi di abbonamento, fate passare del tempo, 108 euro, giocate in 4K, in 1440p, quello che volete, se no 1080p c'è l'abbonamento a costo ridotto. Onestamente, secondo me, sono dei grandi servizi. Al momento non sostituiscono i PC perché ci sono dei gradi di prestazioni che ancora non riescono a raggiungere e ci sono delle limitazioni di sorta che però sono molto lunghe da spiegare, quindi per non monopolizzare il video cercherò di darvi più informazioni possibili quando esce il contenuto dedicato nelle prossime settimane. Però, in generale, li ritengo dei super servizi e invito chiunque abbia la possibilità economica di farlo a provarli. Tutto qua. Ricordatevi che c'è anche un tier gratuito su GeForce Now, quindi molto interessante. Perché le DDR4 non scendono più di prezzo? Perché tra un po' te le tirano dietro. Le DDR4 in questo momento su Amazon costano veramente poco. tolta qualche caso eccezionale come per esempio le RGB Vengeance di Corsair, che continuano a costare tanto ma da sempre. Trovi modelli come le Viper o di magari anche modelli esteticamente meno pregiati a meno di 40-45€ per 16GB da 3200-3600MHz, che sono perfetti per la totalità dei contesti gaming e di lavoro delle generazioni che supportino DDR4. Onestamente, se scendessero ancora, probabilmente non rientrerebbero neanche dei costi logistici della distribuzione. Stiamo parlando di 40€. Se in questo momento ti fai una build con AM4 e DDR4, le tue necessità vengono riscontrate da questi processori, puoi risparmiare veramente tanto rispetto alle nuove generazioni. Ovviamente poi avrai la piattaforma che si conclude lì. Però, di per sé, il risparmio istantaneo c'è. C'è anche la possibilità, banalmente, di fare una build sotto i 1000€. Ve la lascio giù in descrizione. Che magari vi introduca il gaming in maniera molto molto valida. Questo anche per rispondere a tutti quelli che mi chiedono una build a 800, 900 e 1000€. Effettivamente, sì, si possono fare. Soprattutto con l'arrivo di PS5 Pro. Avrete notato che molte persone stanno interessanti al mondo del PC gaming con questo budget in particolare. Quindi vi lascio giù in descrizione qualche opzione per poterci approcciare. Ovviamente non aspettatevi il 4K a 60fps. Perché su PC abbiamo le prestazioni dettate da una moltitudine di cose molto più ampia. Però è anche molto più ampia l'offerta finale. Cosa ne pensi del futuro delle mod su PC con l'intelligenza artificiale? Questa è una grandissima domanda. E secondo me è una figata assurda. Non so se avete visto il contenuto che ho postato ad agosto dalla Gamescom riguardo RTX Remix. E secondo me è una delle cose più fighe mai viste. Cioè, letteralmente, hanno preso Half-Life 2. L'hanno rivoltato come un calzino. E hanno creato un gioco che è originariamente la storia di Half-Life. Che è un gran titolo, a mio dire. Ma l'hanno reso appetibile graficamente alle nuove generazioni. Ma è incluso. Perché effettivamente Half-Life 2 io l'ho giocato con tanta fatica. Perché l'ho giocato molti anni dopo che era uscito. E ho dovuto, diciamo, apprezzare determinate dinamiche che appartengono ad un altro tempo. In cui contestualizzate, come il loro tempo, appunto, erano maggiormente, diciamo, digeribili. Ma in contesti moderni, con i giochi a cui siamo abituati oggi, insomma, risultano un po' obsolete. E quindi RTX Remix, secondo me, è una tecnologia fantastica. Al tempo stesso esistono mod che integrino cose come, per esempio, un assistente vocale come ChatGPT. Oppure lo utilizzano per creare i dialoghi dei giochi. Lì bisogna vedere un attimino ancora come si sviluppi la cosa. Ma è un mondo interessantissimo. E non vedo l'ora di vederne i frutti. Secondo me sarà una figata pazzesca. Vista la potenza brutta dei processori di alcuni top di gamma di oggi, avrebbe senso portare i titoli di console e PC sui telefoni? Arrivando quindi a una situazione di gaming da telefono con un pad di Xbox e PS5? E molto lunga il resto? Magari utilizzando la modalità DeX di Samsung per fare screen mirroring e giocare su schermi più grandi? E una domanda veramente interessante. Come avrete visto nelle ultime, appunto, conferenze di Apple, c'è una piccola porzione, appunto, di quella conferenza che è dedicata all'ambito del gaming. Anche nella ultima, per l'annuncio dell'iPhone 16, hanno mostrato qualcosina. Ho visto che stanno spingendo tanto sul concetto di portare il ray tracing accelerato a lato hardware direttamente sui dispositivi. Cioè, come appunto noi facciamo con le schede video, ma accelerati dal SOC, dalla CPU, insomma, del telefono. Il che è veramente assurdo. Ovviamente, ragazzi, diciamocelo chiaro. Alcuni telefoni in questo momento hanno delle potenze di calcolo che si avvicinano a quelle di, magari, processori o comunque processori con GPU integrata di qualche generazione fa. Non esattamente in linea, per via ovviamente dei consumi e delle temperature ridotte che devono poter utilizzare, però effettivamente parlando, la potenza di calcolo è molto estesa. A mio dire, Apple è sulla buona strada, più che altro perché oltre al hardware controlla anche il software, che come abbiamo visto è un'ottimizzazione veramente importante, che sull'Apple Silicon ha fatto veramente dei miracoli perché M1 è stata una bomba, M2 e M3 un po' meno, però effettivamente sono i miei vademecum quando la gente mi chiede che portatile da lavoro generico, da università mi prendo, io gli dico ancora prenditi un M1. Sì, è vecchio di 5 anni, ma la qualità totale del prodotto è difficilmente battibile. Oppure ti prendi un M3, questo da 15 pollici secondo me è una grandissima figata come dimensione dello schermo e dell'insieme delle caratteristiche. Poi sì, sei limitatissimo su tanti aspetti, però dipende appunto dalle necessità specifiche di ognuno. Ad ogni modo, i prodotti sono molto interessanti. Tornando ai telefoni, secondo me è un passaggio che avverrà nei prossimi anni, specialmente visto che si sta arrivando a utilizzare praticamente ovunque, l'abbiamo vista anche nella recente conferenza di PlayStation, la porzione di upscaling. Loro hanno presentato la PSSR, veramente il nome terribile, PIS, cioè piscio, e penso che non manchi molto perché appunto inizino a venire coniate per ogni azienda delle tecnologie simili che supportino il gaming in maniera concreta, o appunto non si facciano delle partner come aziende come AMD che effettivamente possano espandere il portfolio dell'FSR anche su questo tipo di hardware, dando quindi spazio a tantissime cose. Secondo me il primo però a fare qualcosa di veramente grosso sarà Samsung, perché su queste cose sono un po' più veloci di Apple, nonostante loro abbiano comunque già iniziato. Ad ogni modo sarà un futuro molto interessante. Questa ragazzi era l'ultima domanda per questo Q&A, vi invito a lasciarne altre oltre al like e a iscrivervi ovviamente al canale per supportarmi e far girare un po' meglio questi video. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che le mie risposte vi abbiano soddisfatto. Lasciatemi altre domande e noi ci vediamo al prossimo video. Pensate su MordenTech, Salvoza! 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 Salvoza!